A 23 anni dalla sua prima esposizione in Valle d'Aosta, Ugo Nespoli è tornato con la mostra A modo mio, Nespolo tra arte, cinema e teatro. Organizzata al centro San Benen del capologo regionale, dall'assessorato all'istruzione e cultura e dedicata all'esperienza interdisciplinare del grande artista piemontese. È una grande emozione, ci avevamo creduto dal primo momento, abbiamo lavorato un anno per arrivare oggi ad inaugurare questa splendida esposizione. Un nome importante, una sede importante e quindi crediamo davvero che le emozioni non mancheranno. Dai cartoon televisivi alla logica matematica, dall'arte al cinema sino al teatro, le opere disposte in base a tracciati tematici creano una costellazione all'interno del centro San Benen da cui emerge la versatilità di uno dei più originali e trasgreschivi interpreti della scena contemporanea italiana che ha ripercorso gli stili a modo suo senza mai lasciarsi imbrigliare dalle convenzioni. Io ho cercato di mettere in scena un campionario del mio lavoro che non è un lavoro diciamo volutamente monotematico, l'idea di mettere in scena una serie di atteggiamenti che passano appunto dagli oggetti d'uso fino alle opere, i quadri, il cinema, il teatro eccetera, perché credo che questa sia l'unica soluzione che un artista possa avere oggi per non essere categorizzato in un gesto solo, in un unico atteggiamento. Oggi l'arte ha bisogno di uscire allo scoperto, di andare verso le persone, di rendersi viva, utile, interessante e magari anche, non dico consolatoria, ma portare anche un segno di luminosità, di allegria diciamo pure. E poi l'atteggiamento che io ho sempre cercato di usare contro quella idea monomaniacale dell'artista che sta nel chiuso del suo studio e che per tutta la vita produce sempre la stessa opera. Quindi questa mostra qui a San Benen mette in scena una serie di spazi con attitudini diverse che credo siano molto legate per quanto molto diverse. Curata dal critico Alberto Fizzi in collaborazione con il filosofo Maurizio Ferraris, l'esposizione è aperta sino all'8 aprile 2018. Conta su oltre 80 opere, tra dipinti, disegni, sculture, ex libris, tappeti, fotografie e manifesti realizzati dal 1967 sino ad oggi in un percorso spettacolare e coinvolgente, ideato per gli spazi dell'ex chiesa sconsacrata. Compare persino una canoa di 8 metri interamente decorata. Questa che abbiamo alle spalle è un'opera divertente che ha un titolo anche divertente, si chiama Avanguardia Educata, cioè il contrario dell'idea che l'avanguardia sia un gesto violento e diseducativo. È un gesto così e rappresenta un po' questa idea mia delle persone che guardano dentro i musei magari senza capirci niente eccetera, però è un'opera anche tridimensionale tra la scultura e il quadro, qui è un'opera a cui sono molto legato.